Svegliatevi, svegliatevi, riuscite a sentire la mia voce e la vostra, riuscite a sentirla, riuscite a sentire la vostra voce dentro di voi che vi chiede di svegliarvi, che vi chiede di prendere in mano la vita e di giocarci, sentite, la state sentendo, sentite tutto quanto, eppure è dentro di voi, dentro di voi, sentite la vostra voce dentro di voi, è un richiamo gentile, un richiamo così gentile, che pare non vero, che pare che provenga da un sogno, da un sogno molto lontano, molto, molto lontano.